Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. E con questa frase tratta da dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria che il ministro Terzi ha salutato in un messaggio letto dal sottosegretario Dassù il secondo ciclo di incontri con gli studenti delle principali università romane sul tema i diritti umani dalla teoria alla pratica. L'iniziativa, organizzata alla Farnesina dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, raccoglie numerosi esponenti del mondo accademico, delle istituzioni, della società civile e dell'ONG. Il seminario ha visto la partecipazione iniziale anche del ministro del welfare Elsa Fornero. Sono qui oggi soprattutto come ministro con delega alle pari opportunità. Il fatto che la delega sia stata data per le pari opportunità sia stata data al ministro del lavoro e delle politiche sociali è comunque una combinazione felice, fortunata, importante. Perché? Perché è soprattutto sul lavoro e nel mondo del lavoro che si giocano le pari opportunità. Essendo il lavoro una dimensione enormemente importante nella vita delle persone tutte. Ci ha dimostrato come si possa pensare di tradurre appunto la questione, il principio, i valori che attengono la materia dei diritti umani dalla pratica alla realtà. A me, devo dire come persona, come donna che lavora, convince molto questa spiegazione, secondo cui l'unica forma di vera equità in una società è la parità delle condizioni di accesso. Il messaggio di Terzi sottolinea che i diritti umani delle donne e il diritto alla libertà religiosa devono essere l'elemento guida della politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea. E in questo senso si muovono le iniziative della Farnesina. Stiamo organizzando come Ministero degli Esteri un grande evento internazionale nell'estate prossima. Il segretario Clinton, che è una donna che è riuscita indubbiamente sia nel lavoro che nella famiglia, ha lanciato un grande progetto al Dipartimento di Stato americano sul ruolo delle donne nel public service. Quindi sta facendo un suo lavoro per tentare di favorire l'accesso delle donne nell'amministrazione pubblica. Noi ci siamo offerti come Italia di costruire un po' una gambe europea di questo esercizio. Noi ci siamo offerti come Italia di costruire un po' un'amministrazione pubblica.